Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi in questo nuovo video vi spiego come aggiustare l'errore non corretto, il parametro dell'errore 87 perché ho ricevuto un commento che non funziona su FIFA 23, ma non solo su FIFA 23, quindi risolveremo questo errore su moltissimi altri programmi che dicono errore non corretto, quindi del parametro dell'errore 87 Prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale ed attivare la campanella e di lasciare un like Faremo questo video in due, divideremo questo video in due passaggi, quindi sia per Windows 10, Windows 7, Windows 8, 8.1 e poi Windows 11 Quindi andiamo un attimo su tasto start, il tasto Windows, che lo trovate sulla tastiera, più R di Roma Scrivete Service Service.msc Vate ok Trovate il parametro, il servizio Dati, contatti Con un diverso codice o lettere, basta che voi trovate, dati, contatti Cliccateci sopra Mettete tipo di avvio disabilitato Se a voi sta automatico fate applica, dice parametro non corretto Se metto disabilitato, faccio di nuovo applica, annulla, clicco di nuovo sopra Tipo di avvio disabilitato e faccio ok Ora faremo questo servizio su recetit Voi dovete trovare il nome del servizio PIM Index Maintenance SVC con diversi codici, diverse lettere e numeri Questo qua Quindi chiudiamo questa scheda Facciamo di nuovo così Esegui Regedit Se avete problemi ad aprire questa schedina basta che lo cercate qua sopra Esegui Regedit Io ovviamente già avevo fatto questo settaggio Questa è la cartella PIM Index Maintenance SVC Saliamo fino a sopra HKEY LOCAL MACHINE Aprite questa cartella Andate sulla cartella SISTE Andate sulla cartella CORRENT CONTROL SET SERVICE Scendete fino a giù E trovate la cartella PIM Index Maintenance SVC Questa qua Non fa niente se avete numeri e lettere diverse Cliccateci sopra Su START Io ho messo come valore 4 che significa disabilitato Metto 4 Il numero 2 sarebbe manuale 3 automatico 4 disabilitato E faccio ok Se avete ancora problemi con questo errore 87 che il parametro non è corretto Sempre su quella scheda di prima sui servizi Al posto di disabilitato mettete manuale oppure automatico Ora una volta risolto questo errore su Windows 11 Andremo a fare questo servizio anche su Windows 7, 8, 8.1 e Windows 10 Possiamo iniziare Quindi ragazzi andiamo un attimo sul nostro disco Perché dobbiamo andare nella cartella di Windows Ovviamente nella cartella di Windows Dobbiamo trovare la cartella Sysstem32 Perché dobbiamo fare una modifica a un file Quindi andiamo nella cartella Sysstem32 Scendiamo fino a giù Fino a trovare il file Se lo trovo Fino a giù Eccolo qua Atcfx64 Sotto la tic Ok eccolo qua Atc6bxx.dll Facciamo rinomina Vicino a dll.bac Ok? Punto bac E salvatelo Una volta salvato ragazzi Riavviate il vostro pc Quindi ragazzi Grazie a tutti per questa visione Se questo video vi è stato utilissimo Lasciate un like Se avete problemi Commentate Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina Per i prossimi tutorial E noi ragazzi Ci vediamo Ciao ragazzi Ciao